Ben ritrovati amici di Radio Speranza in Blu ad un nuovo appuntamento con servizi e interviste. La nostra rubrica di approfondimento che oggi vi presenta un grande evento che avrà luogo giovedì 18 aprile alle 21.15 presso l'auditorium Flaiano di Pescara che ospiterà il concerto grosso per i New Trolls in memoria di Vittorio Descalzi. Sul palco si esibirà la Medit Orchestra diretta dal maestro Angelo Valori, grande musicista, compositore, direttore d'orchestra, produttore, insegnante, nonché patron del Pescara Jazz Festival e noi abbiamo voluto intervistarlo per farci raccontare come sarà questo grande appuntamento musicale. Un'iniziativa importante che vedrà protagonisti sul palco, oltre che lo stesso Angelo Valori che dirigerà l'orchestra, anche quelli che sono stati i componenti della formazione che hanno suonato insieme a Vittorio Descalzi, quindi Roberto Tiranti, Andrea Maddalone, Lorenzo Ottonello e Max Vigilante. Davvero una reunion in memoria di Vittorio Descalzi. Innanzitutto siamo proprio con Angelo Valori. Com'è nata questa idea, questa bella contaminazione che è davvero un concerto grosso nel pieno senso del termine? Sì, è nata su una proposta di Barley Arts, che è un'agenzia, la più importante agenzia indipendente in Italia, di distribuzione di concerti e di riproporre per l'appunto questo repertorio storico che negli anni 70 ha fotografato e caratterizzato un'epoca. Il concetto grosso numero uno è stato un'opera che, oltre che essere di grande ricerca e di innovazione, in realtà ha avuto un successo di pubblico notevolissimo, oltre 800.000 copie vendute. Oggi, al di là del fatto che copie vendute è un concetto che comincia ad essere antico, ma soprattutto quel tipo di musica che vende, che riesce a fare quei numeri, è un po' difficile da capire. Invece allora, negli anni 70, c'era un pubblico che evidentemente eseguiva, si voleva impegnare in questo tipo di apprezzamento, di ricerca della musica. Oltre che quel concerto grosso, verranno eseguiti poi anche altre opere successive, come il concerto grosso numero due, alcuni brani del concerto grosso numero tre e altri brani invece che sono caratteristici dell'opera di Vittorio Descalzi, a cui per l'appunto il concerto è dedicato. Lui è venuto a mancare nel 2022, insomma la sua opera musicale è stata davvero importante, uno dei più importanti musicisti italiani, che oltre che con i New Trolls ha collaborato con De André, con davvero tutti i più importanti musicisti dell'epoca. Un concerto grosso composto da Luis Bacalov, voi quindi suonerete quest'opera, suonerete anche le canzoni più care a repertorio dei New Trolls, com'è realizzare questa fusione musicale? Come avete lavorato per produrre questo concerto che fonde anche generi diversi? Sì, innanzitutto il concerto grosso è una forma tipicamente barocca di fine 600, che si caratterizza dal concerto solista, perché non è un dialogo tra uno strumento solista e l'orchestra, ma è un dialogo tra alcuni strumenti dell'orchestra, diciamo un concertino, alcuni strumenti dell'orchestra rispetto poi al totale dell'orchestra. Però in questo caso abbiamo addirittura due livelli, perché oltre questa caratteristica del concerto grosso classico abbiamo poi un dialogo tra la rock band e l'orchestra classica, e quindi questa sonorità tipica di quel periodo, perché tutto il progressive rock è molto caratterizzato da forti influenze della musica classica, anche a livello internazionale, ci fa capire come questo gruppo, questo repertorio fosse all'avanguardia, fosse sulla linea di tutto quello che più di innovativo stava succedendo a livello internazionale. Io ricordo che noi ragazzini in quel periodo, studenti di musica classica, eravamo molto affascinati da questa unione tra una forma assolutamente barocca insieme a delle forme invece più contemporanee. Quindi è una grande emozione rivivere le emozioni di allora, di giovani adolescenti, riviverle oggi e riproporle per far conoscere un'opera che, ripeto, ha un valore storico notevole. Quindi insomma orchestra e band, rock, musica classica e prog sono generi che davvero stanno bene insieme e possono parlare anche oggi a più generazioni, possiamo dire dai nonni e nipoti. Sì, io penso di sì perché innanzitutto i temi sono molto orecchiabili, molto godibili, molto memorizzabili. Poi questa unione tra il suono degli archi, oppure del lobo e del flauto e il suono più elettrico della band porta a una fusione che era innovativa allora ma che oggi è un grande classico e come tutti i grandi classici merita di essere riscoperto, promulgato e fatto conoscere insomma anche a chi non c'era allora e apprezza la musica di oggi. Quindi io credo che sia un'operazione culturale di rilievo, di grande rilievo perché ci presenta un gruppo molto fecondo, diciamo, molto, come ho detto prima, molto all'avanguardia per quei tempi in tutta la loro produzione, quindi con concerti grossi ma anche con le altre canzoni. È un gruppo come avrà modo di sentire il pubblico che in qualche modo sembra addirittura precedere certe sonorità dei Queen o comunque stanno, diciamo, in linea, ecco, non solo dei Queen ma, ripeto, di tutti i gruppi progressivi internazionali di quel periodo. C'è una canzone in particolare che è un manifesto di quell'epoca e sarà un po' anche un manifesto di questo concerto che la colpisce particolarmente e che avrà modo di dirigere sul palco dell'auditore Unflaiano. Ma le canzoni, certo, se parliamo di quelle più popolari c'è quella carezza della sera che, insomma, è indimenticabile è quella che il pubblico appezza di più. Devo dire che risentendo queste canzoni per preparare questo concerto ho risentito appunto dei brani che non sentivo da un po' di tempo e devo dire che alcuni brani come Una miniera e Signore, io sono Irish, colpiscono, hanno un livello emotivo molto forte sono canzoni che, insomma, a livello diverso riguardano il mondo del lavoro e che quindi, insomma, hanno un significato molto attuale perché se uno poi si ferma ad approfondire il significato del testo sono convinto ritrova dei temi che sono senza tempo. Poi comunque chi verrà a questo concerto vedrà una grande unione di talenti, di musicisti, di storie, uomini che si incontrano, carriere musicali diverse che però si fonderanno in un unico grande spettacolo quindi un'operazione molto suggestiva, molto affascinante. Sì, questa domanda per cui ringrazio mi dà l'occasione di dire una cosa alla quale io tengo molto, nel senso che si tratta di una produzione cioè questo è un evento che nasce a Pescara che poi verrà replicato in tante altre città italiane però nasce a Pescara quindi che cosa porta questo, il concetto di produzione? Porta lavoro sul territorio quindi fa lavorare non solo i musicisti e gli artisti ma anche l'indotto, i tecnici, i grafici porta lavoro sul territorio porta esperienza artistica nel senso che per l'appunto ci stanno tanti giovani ragazzi che sono quelli che in qualche modo rappresentano la maggioranza della nostra orchestra che per l'appunto è formata all'incirca per il 70% di giovani sotto i 30 anni e di alcuni musicisti più esperti che in qualche modo fanno da tutor quindi una formula che in qualche modo premia molto coloro che stanno iniziando questa professione dicevo, è un'esperienza che dà modo a questi ragazzi non solo di lavorare quindi diciamo di iniziare questa professione così complessa per certi aspetti anche difficile ma soprattutto gli dà modo di suonare con musicisti di valore nazionale ed internazionale e io credo che per un ragazzo di 25-30 anni avere l'occasione di misurarsi con artisti come quelli che in questi anni sono stati ospiti della MediTor che sta come Didi Bridgewater, i Manhattan Transfer, Sergio Gammariere, Morgan e tantissimi, insomma Rita Marco Tulli nel jazz, nel pop credo che sia un'esperienza formativa straordinaria vorrei averla avuta io quando eravamo ragazzi ma non c'erano enti di formazione qui sul territorio almeno a Pescara non c'erano e comunque non andavano nella direzione diciamo di questo tipo di musica una grande idea dunque anche la MediTorchestra per dare un'opportunità ai giovani musicisti tutto questo sarà anche questo concerto e allora per concludere qual è l'invito del maestro Angelo Valori per partecipare a questa iniziativa in generale per seguire la grande attività concertistica della MediTorchestra che davvero è meritoria e sta ammietendo successi ovunque in Italia innanzitutto invito tutti a venire al concerto perché ripeto sarà un'esperienza davvero particolare quindi è la prima volta che questa produzione viene presentata al pubblico viene presentata con i musicisti che hanno accompagnato Vittorio Descalzi dal 1998 quindi diciamo negli ultimi anni della sua carriera quindi sono musicisti che conoscono perfettamente il repertorio tutti musicisti di valore nazionale e quindi innanzitutto di godere una serata che sarà unica e che come dicevo prima verrà replicata poi in molte città italiane e poi sì l'invito in generale è quello di seguire la MediTorchestra che è un'iniziativa che secondo me merita l'affetto, la partecipazione l'interesse del pubblico perché propone un repertorio che altri non propongono quindi è una formazione che crede molto nella canzone come forma culturale della cultura contemporanea per l'appunto è un organismo un organico che vede spesso ospiti di valore internazionale per esempio quest'estate è già annunciata la ripresa della tournée con Didi Bridgewater avremo diversi concerti con gli Avion Travel avremo dei concerti con Sergio Cammariere avremo naturalmente questi concerti con il concerto grosso per i New Trolls quindi sono annunciati parecchi concerti che sono un unicum ripeto per il motivo che già ho detto prima cioè che sono iniziative che nascono nel nostro territorio allora davvero noi li seguiremo grazie al maestro Angelo Valore direttore della MediTorchestra per essere stato con noi grazie a voi per l'invito e da Davide di Amicis è tutto grazie per l'attenzione e a risentirci grazie a tutti 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 grazie a tutti